Stiamo lavorando, stiamo lavorando a questa serie web, a Run Away, di Riccardo Cannella, a Ustica. Certo ci sono dei momenti in cui smettiamo la regolazione perché dobbiamo mangiare e mangiamo quello che l'insola si offre, poche cose, per sostentarci e fare delle riprese anche durante tutta la notte. E' un duro lavoro quello del cinema, ma qualcuno lo deve fare e noi lo stiamo facendo per voi. Quando vedrete la serie, bella, inquietante, forse sentirete anche un po' il profumo di questo pezzo.